Ostacoli fissi per impedire il transito dei veicoli che potessero compromettere la sicurezza dei fedeli, servizi di osservazione, vigilanza e viabilità su tutto il percorso, zone di raccolta per eventuali emergenze. Non è stato lasciato nulla al caso ieri mattina durante la rituale processione per la festa della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria. Sono decine di migliaia i fedeli che partecipano ogni anno all'evento religioso e la prefettura di Reggio Calabria, con il coordinamento della Questura e la collaborazione delle altre forze di polizia, ha da tempo messo a punto un piano che possa regalare ai regini delle festività serene ma soprattutto sicure. Sono ancora fisse negli occhi le immagini dell'attentato a Barcellona, così come vive sono le istantanee di quanto accaduto a Torino. Da qui la decisione di prevenire possibili incidenti. In primis sono stati posti degli ostacoli nelle strade che avrebbero permesso l'accesso a mezzi non autorizzati. Ciò ha neutralizzato il pericolo di attentati terroristici con simili modalità. Un controllo certosino della viabilità con chiusure strategiche ha fatto circolare regolarmente il traffico. L'istituzione di numerosi punti di raccolta nelle traverse adiacenti il Corso Garibaldi ha poi consentito di creare degli spazi da utilizzare in caso d'emergenza, evitando accalcamenti e folle terrorizzate. Il lavoro ha coinvolto forse dell'ordine e associazioni di volontariato. Le medesime misure saranno adottate anche per la processione prevista martedì pomeriggio, cui seguirà il concerto di Raf. L'attenzione ovviamente rimane molto alta, ma la sensazione ieri era di trovarsi in un luogo particolarmente sicuro. Consolato Minniti per la CNews24.